Questo è un video per chi si sta interrogando sulla reale qualità fotografica del nuovo iPhone 15 Pro. Nel corso del video vi farò vedere un'opzione segreta per rendere le nostre foto perfette in ogni situazione. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e mi capita spesso anche di scattare col telefono. In particolare sono un utilizzatore Apple da tanti anni e di recente ho introdotto nel mio kit un iPhone 15 Pro. Ho già fatto alcuni video a questo riguardo che vi lascio linkati in card, ma oggi andremo ad aggiungere qualcosa di nuovo, ovvero vi farò vedere un'opzione, io l'ho chiamata opzione segreta, in realtà non è segreta, è un'opzione che è lì, però vi farò vedere dove l'hanno messa perché non è facile da trovare e quindi se non attiviamo questo parametro le nostre foto non vengono bene e non stiamo sfruttando al massimo il nostro apparecchio fotografico. Motivo per cui vi consiglio di guardare questo video per intero perché in ogni parte del contenuto vi svelerò qualche piccolo trucchetto. A questo proposito vi dico anche che siccome io guardo le statistiche mi rendo conto che il 60% di chi ha guardato i miei contenuti nell'ultimo mese non era iscritto al canale, colgo l'occasione per dirvi iscrivetevi adesso perché è un peccato che il 60% di voi si guardi i miei contenuti quando li trova invece che quando escono, state perdendo l'opportunità di rimanere aggiornati sul magico mondo tecnologico di dispositivi come questo. Benissimo ma cominciamo subito, io vado ad attivare il mio telefono e attivo anche la registrazione schermo perché devo farvi vedere che cosa andrò a fare. Quindi io vedo me stesso nella mia Canon R7 con dietro il mio computer ma vedete che non ho nessuna opzione sul monitor. A questo punto andiamo invece ad aprire le impostazioni e scrolliamo fino a quando non troviamo le impostazioni della fotocamera. Ora qui vedete che c'è l'opzione formati, andiamo a premere proprio quella, abbiamo efficienza elevata, sì sì va bene, abbiamo modalità foto, abbiamo scelto 24 megapixel invece di 12, quindi abbiamo già fatto quello che dovevamo per avere la qualità massima, giusto? Sbagliato. Perché hanno nascosto quest'opzione e vi faccio vedere dove l'hanno nascosta. Subito sotto modalità foto vedete che abbiamo controllo Pro Raw e risoluzione. Se noi andiamo ad attivare quest'opzione vedete che ci viene chiesto di scegliere con che formato Pro di default vogliamo scattare. E noi potremmo dirgli AFE max fino a 48 megapixel oppure Pro Raw 12 megapixel oppure Pro Raw max fino a 48 megapixel. La differenza qual è? Nel primo caso stiamo solo abilitando i 48 megapixel, quindi stiamo dicendo al nostro dispositivo di catturare a formato pieno quello che stavamo prima catturando a formato ridotto. Nel secondo caso invece Pro Raw 12 megapixel gli stiamo dicendo catturami l'immagine a 12 megapixel, quindi piccolina, però catturamela in RAW, quindi verrà scaricato un DNG. Nel terzo caso che è Pro Raw Max gli stiamo dicendo di fare tutto al massimo invece. Gli stiamo dicendo di catturare a 48 megapixel in formato RAW, quindi scaricheremo nuovamente un DNG. Questo è il formato che ci consente di avere la qualità maggiore sul nostro dispositivo. Attenzione, le fotografie saranno così pesanti che la memoria del telefono si riempirà molto in fretta. Probabilmente questo è il motivo per cui hanno nascosto quest'opzione, facendo in modo che solamente chi veramente la vuole vada a cercarla e ad abilitarla, mentre tutti gli altri continueranno a scattare in formato normale e quindi non si vedranno il telefono riempito di immagini pesantissime. Bene, ma che cosa succede una volta che abbiamo abilitato quest'opzione? Le nostre foto cambiano in automatico come per magia? In realtà no. Torniamo nel telefono e come vi faccio vedere qui vedete che abbiamo l'opzione RAW Max che però è barrata in questo momento. Ora, se io vado a scattare una fotografia in questo modo, sto facendo esattamente come prima. Anzi, qui è attivata la modalità live addirittura, quindi diciamogli live no. In questo momento se io scatto una fotografia, sto scattando una foto esattamente come prima. Non è cambiato niente perché non sto usando la modalità RAW. Se io vado a cliccare sopra RAW Max vedete che la barra scompare e adesso, se io vado a scattare la mia fotografia, sto scattando in RAW Max. Questo significa che solamente adesso ho utilizzato il mio iPhone 15 Pro a piena potenza. Solamente adesso ho catturato l'immagine nel formato migliore che questo telefono è in grado di offrire. E quindi questo è il formato che probabilmente diventerà il preferito dei professionisti e che probabilmente nessun amatore userà. Perché ci sono un po' di controindicazioni nell'utilizzo di questo formato. Innanzitutto, come detto, le fotografie scattate in questo modo pesano il doppio, il triplo delle fotografie normali. Non ho ancora fatto il conto ma pesano veramente tantissimo. Ho letto da qualche parte online che le fotografie possono pesare addirittura 70 MB scattate in questa modalità. E effettivamente ha senso perché 48 megapixel con quel formato, con un DNG, ha assolutamente senso che pesi così tanto. Quindi sono delle immagini, dei file che riempiono la memoria del nostro telefono in un attimo e quindi è pericoloso scattare in questa modalità. Perché rischiamo di riempirci il telefono prima ancora di rendercene conto. Da questo punto di vista infatti quelli di Apple sono stati previdenti perché hanno nascosto quell'opzione così che chi non capisce niente di queste cose non la attivi per sbaglio. Bisogna compiere una serie di passi per attivarla. Chi non capisce che cos'è non la attiverà mai per sbaglio. E oltretutto, nel momento in cui noi la attiviamo, se poi chiudiamo l'app della fotocamera e la riapriamo, il RAW Max torna a essere disattivato. Quindi dobbiamo consapevolmente attivarlo noi tutte le volte. Questa secondo me è una cosa buona. Perché altrimenti ci riempiamo il telefono di DNG pesantissimi anche se magari non li vogliamo. Quindi va benissimo così. Ora facciamo un salto nel telefono per capire di che cosa stiamo parlando. Nel momento in cui vi faccio questo video io sono stato in giro per la città e ho fatto un po' di scatti di prova. Quindi vi posso far vedere per esempio questa. Questa qui è un'immagine scattata normalmente in modalità Hake. Mentre questa è la modalità RAW. Infatti vedete che in alto a sinistra c'è scritto RAW che mi segnala che questa è un'immagine più pesante. Vedete che a una prima analisi non c'è tutta questa differenza. Andiamo a vederle a schermo pieno. Vedete che non c'è tutta questa differenza. Io l'unica cosa che riscontro è che il RAW ha un pochettino di dettaglio in più. È un pochettino più nitido e conserva più dettaglio nelle zone delle alte luci. Questo sicuramente. Nel momento in cui andiamo ad aprirle a computer vedremo poi che cosa cambia. Qui di nuovo facciamo una comparazione alla veloce. Vedete questa è l'immagine scattata normalmente. E questa è l'immagine scattata in RAW. Non ci sono grosse differenze. Anche qui stessa cosa. Questa è l'immagine scattata normalmente. E questa è l'immagine scattata in RAW. Vedete che non cambia tantissimo. Qui abbiamo messo alla prova il nostro sensore con delle fotografie scattate al buio. Questa è l'immagine scattata normalmente. E questa è l'immagine scattata in RAW. Insomma a prima vista sul dispositivo sembra che non cambi granché. I veri vantaggi si vedono nel momento in cui andiamo a tocchicciare la nostra immagine. A modificarla. Perché come ben sapete il fatto di scattare in RAW o in DNG o quello che è. Ha senso se poi noi andiamo a modificare l'immagine. Altrimenti abbiamo solamente una copia più grande della stessa cosa che avremmo avuto normalmente. Nel momento invece in cui andiamo a metterci mano. Possiamo mettere la nostra personalità nello scatto. modificando luci, colori e un sacco di altri parametri con l'app che preferiamo. Io in questo video vi farò vedere delle modifiche fatte su Photoshop Camera RAW. Ma se avete Lightroom Mobile va benissimo lo stesso. Un piccolo appunto che faccio. Mi rendo conto con l'utilizzo che questi file anche se sono pienamente fruibili su qualsiasi altro dispositivo su computer. Si possono passare a un iPhone più vecchio e vengono letti correttamente. Hanno qualcosa di proprietario Apple. Hanno qualcosa che non è pienamente compatibile col resto. E devo ancora scoprire che cos'è e se c'è un workaround per farli funzionare meglio. Mi spiego meglio. Nel momento in cui io registro un video in 4K, 24 frame al secondo, normale. Un video normale. Registro un video normale con questo telefono. Mi rendo conto che nel momento in cui vado poi a caricare il mio video su Premiere Pro, sul mio computer. Nel momento in cui guardo l'anteprima su un computer Apple. Quindi questo lo legge correttamente. L'anteprima è corretta. Ma nel momento in cui importo il file nel mio progetto, l'esposizione cambia. L'esposizione è sballata. E ho visto che tende a sovraesporre. Nessun problema. Perché mi basta andare a correggere. Ripristino il file come dovrebbe essere. E poi posso andare a lavorarci. Però di default me lo dà sovraesposto. Per contro, le fotografie scattate in DNG, come vedremo tra poco, una volta aperte in Photoshop Camera Raw, risultano parecchio sottoesposte. Quindi, nonostante io in anteprima veda tutto correttamente, sia sul telefono che sul computer, nel momento in cui apro con app di terze parti, perché Adobe non fa parte di Apple, ecco che vediamo che i parametri vengono lievemente modificati. Devo ancora capire se c'è qualche impostazione strana che gli devo dare per dirgli da dove vengono questi file, e quindi di leggerli in un certo modo. Credo in realtà che sia una cosa che andrà avanti così e fa niente, perché tanto basta saperlo e si provvede e si corregge di conseguenza. Non è niente di che. Però adesso ci tuffiamo all'interno del mio computer e vi faccio vedere che cosa andiamo a fare su questi file e qual è la loro effettiva qualità. Molto bene, eccoci qui. All'interno di Camera Raw abbiamo importato i DNG. Innanzitutto, la prima cosa che devo constatare, sono molto contento che siano dei DNG, quindi sono contento che non ci sia un file proprietario Apple da dover leggere per forza con un software complicatissimo che magari costava 39,99. Sono contentissimo che siano dei normalissimi DNG, così li possiamo leggere con quello che vogliamo noi. In questo caso io li apro con Camera Raw perché funziona, nonostante io abbia la versione 2021, quindi una versione molto precedente all'uscita di questo device, mi legge tranquillamente tutte le mie foto. Io auspico che in futuro anche le macchine fotografiche possano scattare direttamente in DNG perché francamente dover aspettare l'ultima release dell'applicativo per scaricare i RAW dell'ultima macchina fotografica è una cosa molto fastidiosa. Andiamo a vedere come si comportano queste immagini. La prima cosa che riscontro aprendole è che sono molto buie, sono molto più buie dell'anteprima. Vedete, questo è il DNG. Nel momento in cui io lancio l'anteprima del DNG vedete che la luminosità è questa. Nel momento in cui guardo il DNG aperto è molto molto più scura. Quindi adesso andiamo a sistemarla un attimino. Io la prima cosa che faccio è che cerco di aprire un pochettino le ombre in maniera tale da ripristinare più o meno quello che vedevo in anteprima e più o meno una situazione che mi piace. andiamo a vedere gli highlights e le ombre e qui possiamo vedere che siamo a buon punto. Facciamo una cosa di questo tipo e dovremo aver più o meno recuperato quella che era l'esposizione reale. Da questo punto in poi poi possiamo fare un po' di magheggi quindi possiamo andare a giocarci possiamo andare a fare le solite cose che si fanno quando vogliamo post-produrre un'immagine per postarla da qualche parte però grosso modo così siamo arrivati. Ora devo dire che l'immagine con il recupero che c'è stato si presenta anche abbastanza bene devo dire la nitidezza mi sembra buona anche se sono abbastanza convinto che sia un po' artefatta nel senso che secondo me l'iPhone un po' di intelligenza artificiale ce la sbatte anche qui per farci vedere le cose migliori di come erano veramente però che diavolo il risultato non è davvero niente male è paragonabile a quello di una macchina fotografica? Secondo me no però per avere questo risultato semplicemente con un telefono in tasca è comunque tanta roba. Facciamo una bella cosa adesso andiamo a vedere la prossima immagine anche qui la prima cosa di cui ci rendiamo conto è che quello che io vedo qui è molto diverso dall'anteprima perché anteprima era questo è il JPEG vedete che non si vede benissimo se passiamo al DNG vedete che si vede già meglio è molto più nitido però questo non è quello che io vedo quando vado ad aprire il mio DNG quindi adesso cerchiamo di andare a ripristinare quello che vedevo sempre che ci si riesca perché qui è un balance ovviamente tra luci e ombre però vedete che se io recupero le ombre vado a intaccare le luci quindi è possibile che io debba usare dei pennelli per fare questa cosa e quindi adesso vado a dargli un po' di scuro dentro nella cupoletta perché altrimenti non riesco a fare quello che vorrei io qui voglio recuperare le ombre ma senza sacrificare quella parte molto luminosa ok diciamo che così più o meno abbiamo ripristinato quello che vedevamo in anteprima più o meno ovviamente andiamo a esaminarla così siamo al 100% e di nuovo è buona come quella scattata con una macchina fotografica? io vi dico in tutta onestà secondo me no perché con una macchina fotografica ottieni qualcosina di più però devo anche dire che il risultato è notevole con il mio iPhone 11 però un risultato del genere non l'avrei mai ottenuto e vi dico di più una cosa del genere non la otterrei nemmeno con le mie fotocamere entry level nel senso che avrebbero tantissimo rumore per fare questa stessa foto qui ho voluto sforzare il sensore l'ho messo volutamente alla prova e una fotografia fatta con una fotocamera entry level come potrebbe essere che ne so la 700D un'immagine del genere così pulita con questa illuminazione non me l'avrebbe mai fatta poi dipende anche dall'ottica ma io sto pensando a una fotocamera entry level con una lente kit quindi con un'ottica da f3.5 questo risultato secondo me non l'avrebbe mai ottenuto con questa pulizia non l'avrebbe mai ottenuto poi devo dire la nitidezza è più buona al centro che sui bordi sui bordi andiamo a perdere qualcosina ma questo è un 13 mm è un ultra wide quindi ci sta adesso facciamo una cosa perché sono pigro vado a copiarmi i parametri sulla prossima immagine e vedete che questa qui me l'ha girata così ma in realtà era era in questo modo quindi noi la rimettiamo come doveva essere adesso vi faccio vedere il prima e il dopo perché questo è il DNG appena aperto e questo è il DNG processato per avere giusto quel minimo di decoro che gli si addice anche qui andiamo a recuperare un pochino le alte luci all'interno della cupola che chiaramente sono bruciate devo dire anche qui paragonabile a una fotocamera non lo so dipende dalla fotocamera dipende dalla lente di sicuro siamo di fronte a un ottimo risultato andiamo a vedere cos'altro abbiamo qui devo dire questa foto l'ho fatta un po' per gioco e non ho fatto il non ho fatto il corrispettivo in JPEG ho scattato soltanto il DNG andiamo a vedere che cosa si riesce a ottenere intanto qui ho esagerato bisogna dargli un minimo di respiro ok qui recuperiamo e vedete che la scena che io avevo di fronte grosso modo era questa quindi devo dire secondo me se la cava bene se la cava molto bene perché questa era una scena buia quindi meglio o peggio di una fotocamera diciamo che la fotocamera è meglio magari la fotocamera ti dà un po' più di dettaglio questo sicuramente la fotocamera è più nitida globalmente però una fotocamera per tirare fuori una foto come questa senza treppiede avrebbe molto più rumore secondo me poi dipende anche dall'ottica però globalmente una fotocamera media secondo me avrebbe più rumore in un'immagine come questa qui io vedo chiaramente che c'è una perdita di dettaglio un pochino artefatta dovuta secondo me al fatto che il telefono ha tirato a indovinare ha usato l'intelligenza artificiale per riempire certe zone e magari ha anche usato l'intelligenza artificiale per rimuovere digitalmente il rumore io sono convinto che ci siano tutte queste cose anche in questa immagine anche se è dng perché comunque la vedo troppo pulita è inverosimile la pulizia di questa immagine devo constatare che è molto pulita quindi se vogliamo un risultato pronto direttamente sul telefono senza fare troppa fatica direi che qui assolutamente ci siamo andiamo a vedere qualche altra immagine queste sono scattate all'aperto quindi qui non abbiamo messo a dura prova il nostro sensore anche qui devo dire che rispetto agli originali vedete l'originale era questo era molto luminoso quando noi andiamo ad aprire il dng è scurissimo questa è una cosa che a me non fa impazzire perché mi dà una percezione errata di quello che sto guardando quindi io poi devo andare a svilupparmelo tirando fuori luci e ombre in maniera anche piuttosto brutale perché comunque partendo da questo io vedete che anche l'istogramma me lo conferma devo tirarla su tantissimo e questo che mi piaccia oppure no introdurrà sempre del rumore digitale io credo che farei una cosa del genere adesso sto facendo delle modifiche molto estreme perché non sto guardando la caduta qualitativa sto soltanto guardando il recupero che riesco a fare per farlo in maniera proprio del tutto sperimentale sono convinto che se andiamo a zoomare allora così è originale e così è lavorata devo dire che ha un recupero notevole e una pulizia assolutamente impressionante non è un'immagine secondo me particolarmente bella non è un'immagine particolarmente dettagliata però è un'immagine con una pulizia che fa spavento e a me sembra artefatta questa pulizia perché mi sembra veramente che ci siano delle aree lisciate prive di dettagli e prive di texture quindi io sono convinto che vedete qui c'è un minimo di texture qui non c'è è stata completamente piallata secondo me viene piallata con un sistema di lavorazione interno andiamo a vedere un'immagine dove gli sarà un po' più difficile fare questo giochetto io infatti l'ho fatta apposta questo è un interno di un ascensore ho visto che l'immagine si lascia maltrattare molto e quindi io la maltratto molto tanto non la devo mica stampare andiamo a ingrandire vedete anche qui vedete com'è incredibilmente liscia questa immagine ecco qua nelle zone in cui ci sono dei graffi abbiamo un pochino di dettaglio in più perché qui è stato mantenuto devo dire che è particolarmente fuorviante il fatto che ci sia questo questo fallout di luce proprio in questa zona perché così io la recupero ma qui non riesco a capire se questa questa caduta qualitativa evidente nell'immagine è dovuta più al fallout della luce quindi al mio recupero oppure se è dovuta al fatto che essendoci più texture il telefono ha lavorato di meno questa parte dell'immagine per mantenere più dettagli togliendo quindi meno rumore non riesco a capire questa cosa ma se andiamo a vedere su questo dettaglio questo qui è abbastanza luminoso e qui i dettagli ci sono secondo me c'è un po' di computazione in queste immagini però qui non riesco a capire a che livello andiamo su un'altra immagine di nuovo ovviamente io a telefono le vedo più chiare di così qui me le trovo molto oscure andiamo a fare lo stesso lavoro di prima ovvero andiamo a fare un recupero bello cattivo e poi andiamo a recuperare il cielo e qui vedete che se io vado sul cielo questo è un dettaglio preservato vedete che devo fare molta fatica per bruciare quel dettaglio se io vado ad aumentare i bianchi sto bruciando il cielo ma altrimenti se io lascio i bianchi a zero o addirittura se porto i bianchi anche a più 22 ancora i dettagli nel cielo sono perfettamente preservati quindi i dettagli nel cielo che vediamo molto chiaramente qui quindi si era un cielo nuvolo non c'era granché da vedere però i dettagli sono mantenuti quindi questo file secondo me è abbastanza potente è molto carico di informazioni devo dire che qui rispetto a foto vista in precedenza qui vediamo anche un bel dettaglio perché qui accesso cattedrale si legge benissimo probabilmente è ricavato con intelligenza artificiale perché mi sembra di vedere della clarity aumentata sulle lettere però poco ci importa l'importante è il risultato devo dire che qui i ricami e gli abbellimenti sulla facciata dell'edificio si vedono parecchio bene quindi secondo me questo telefono va a togliere rumore e togliere dettaglio dove deve ma lo mantiene invece in altre zone a me sembra che qui abbiamo un ottimo dettaglio andiamo a vedere un'altra immagine e di nuovo io siccome sono molto pigro vado a copiare le impostazioni ok vediamo un po' questa facciata come si comporta e si comporta più o meno nello stesso modo secondo me questo dettaglio è buono questo telefono alla luce quindi l'abbiamo messo alla prova alla luce l'abbiamo messo alla prova in ombra alla luce dove performa chiaramente meglio cavolo qui può competere con una macchina fotografica perché questo dettaglio questa fotografia qui ha un dettaglio che è competitivo con una macchina fotografica secondo me non con la migliore magari non con gli obiettivi migliori e più raffinati e soprattutto abbiamo una grossa differenza tra le zone in luce e le zone in ombra le zone in ombra a me sembrano più carenti e più artefatte perché sicuramente c'era dell'intelligenza artificiale che le ha ripulite per togliere il rumore mentre dove c'era più luce non è stato necessario però qui per fare foto di viaggio travel blogger food blogger o che dir si voglia questo telefono è una cannonata perché questa qualità è assolutamente notevole bene amici come avete potuto vedere siamo partiti da delle foto al buio quindi dove abbiamo messo sotto sforzo il sensore del nostro dispositivo gli abbiamo fatto fare fatica ma l'abbiamo fatto apposta nonostante fossimo al buio secondo me tira fuori delle ottime immagini e soprattutto tira fuori delle ottime immagini anche sull'ultra grand'angolo che era la cosa che a me è sempre mancata sull'iPhone 11 Pro quindi sono contento di questo upgrade perché adesso finalmente posso fare la modalità notturna e posso avere delle immagini carine anche con il grand'angolo che alla fine è una delle mie lenti preferite scattando in Pro Raw Max come avete potuto vedere abbiamo una foto che è abbastanza belloccia è inutile negarlo cioè alcune entry level di qualche anno fa non la facevano un'immagine così perlomeno non in quelle condizioni di illuminazione perché comunque se prendiamo un entry level un entry level con un'ottica entry level e quindi comunque abbiamo speso un migliaio di euro in quelle condizioni questa foto un entry level di 4-5 anni fa non l'avrebbe mai fatta avrebbe prodotto un'immagine magari più nitida però molto più rumorosa e con i colori che non sarebbero stati altrettanto fedeli perché avremmo dovuto alzare gli ISO e quindi avremmo avuto una perdita di gamma dinamica che qui non abbiamo e avremmo avuto delle aberrazioni cromatiche che qui personalmente io non vedo c'è tanta computazione nelle foto di iPhone 15 Pro sicuramente c'è tanta intelligenza artificiale al lavoro per farcela sembrare più bella di come avrebbe dovuto essere però il risultato finale è che funziona non dico che le stamperei perché non lo dico si potrebbe non avrebbero la stessa definizione di fotografie che vengono da una macchina fotografica si potrebbero anche stampare ma non è quello l'obiettivo di questo telefono secondo me non è pensato per chi fa stampe è pensato per chi è in giro e vuole fare foto di viaggio foto da influencer foto della pizza foto alla beato tè cose di questo tipo con una qualità superiore rispetto a maggior parte delle altre persone perché non tutte prenderanno subito un device come questo quindi se uno vuole avere quel lieve vantaggio iniziale secondo me questo telefono fa un lavoro assolutamente egregio avete anche visto che quando usciamo all'aperto e scattiamo invece con luce di urna quindi non mettiamo sotto stress il nostro dispositivo ma lo lasciamo lavorare libero lì abbiamo una definizione che secondo me è irritantemente buona è veramente molto bello questo file nonostante sia pieno di computazione sia pieno di aree che sono state piallate secondo me a me sembra di vedere delle zone che sono troppo perfette per essere vere io quando vedo una cosa del genere quando vedo assenza totale di rumore mi faccio due domande secondo me lì c'è stato fatto qualche magheggio è stato fatto maledettamente bene l'utente medio non avrà la minima percezione di questa cosa anche perché l'utente medio non la ingrandirà magari mai la pubblicherà direttamente così e quindi questo è un bel prodottino secondo me che non va a sostituire le reflex e le mirrorless ma sicuramente può essere un degno alleato e messo di fianco a una fotocamera professionale semiprofessionale amatoriale quello che vogliamo sicuramente può dare il suo contributo e in certi casi può aiutarci a catturare delle immagini che magari con la fotocamera faremo fatica a catturare perché certe cose magari con l'esposizione lunga di tre secondi a mano libera con la macchina fotografica non riusciamo a farla con questo telefono invece riusciamo a portarcela a casa sarà bella tanto quanto se l'avessimo fatta col cavalletto e posa da 30 secondi assolutamente no ma magari quel giorno il cavalletto non ce l'abbiamo e la posa da 30 secondi non la possiamo fare e quindi ben venga avere in tasca un dispositivo come questo ce ne saranno di migliori devo ancora vedere se riesco a mettere le mani su qualcos'altro su qualche xiaomi o su qualche pixel per vedere di fare una comparazione purtroppo non ne ho in mio possesso quindi devo trovarli non sono sicuro che riuscirò a fare questa comparazione ma se ci dovessi riuscire ne vedremo delle belle motivo per cui vi invito a iscrivervi al canale in maniera tale da non perdervi i prossimi aggiornamenti vi ricordo anche che un like a questo video può dare una grossa mano con l'algoritmo soprattutto se avete imparato qualcosa di utile ma sono abbastanza sicuro di sì perché il contenuto di oggi era denso signori non mi dilungo oltre io e iPhone 15 Pro vi diamo appuntamento al prossimo video A presto